5 articoli di elettricità da tenere in casa per affrontare un primo soccorso in caso di blackout Adesso non è che diventeremo tutti elettricisti o siamo autorizzati a fare quello che ci pare sul nostro impianto elettrico è vero anche che non è un reato finché l'impianto elettrico non è di pubblica utilità ma saremo consapevoli che un'alterazione non autorizzata sull'impianto elettrico potrebbe far decadere la dichiarazione di conformità rilasciata dal professionista nel momento in cui lo stesso potrebbe non riconoscere dopo le modifiche la sua opera Eppure c'è sempre quella situazione di blackout dove l'elettricista sta dall'altra parte del mondo in giornate improponibili, in orari improponibili L'unica soluzione è collaborare insieme all'elettricista che potrebbe dedicarci qualche minuto del suo prezioso tempo e in maniera remota potrebbe farci condurre dei test sull'impianto inizialmente staccare tutti i bipolari, scollegare per esempio tutti i carichi e vedere se ancora una dispersione continua ad interferire con l'impianto elettrico guardare qualche dispositivo come caldaia, scaldabagni o altri carichi e scollegare per esempio dei morsetti ecco che a discrezione di tutti potrebbe essere importante partecipare a questi primi test in modo da diciamo ripristinare, riarmare quello che resterebbe dell'impianto ed eventualmente far capire anche all'elettricista cosa abbiamo di fronte nel momento in cui poi lo stesso dovrà intervenire di presenza esempio lo scaldabagno che si buca che fa andare in dispersione l'impianto elettrico scaldabagno che non è connesso a un bipolare dove l'impianto elettrico è unico quindi si rimane al buio tramite la guida dell'elettricista l'utente finale domestico potrà allentare il carter potrà individuare i morsetti, allentarli, staccarli, isolarli e riarmare l'impianto se il problema è questo torneremo a vivere senza scaldabagno ma al momento giusto avremo anche quello funzionante gli articoli elettrici di prima necessità da tenere nella borsettina del primo soccorso nell'angolo del ripostiglio ad esempio per me sono cinque oltre i quali si va verso un concetto più diciamo evoluto e tecnico dell'installazione innanzitutto non devono mancare i guanti isolati anche se di una diciamo tipologia più comune non proprio di uso professionale ma l'importante è avere la parte di contatto in gomma comunque di materiale più o meno isolante e guanti che comunque saranno anche elastici e ben aderenti a tutta la mano in modo che non ci siano parti ben isolanti o non ci si può incastrare con spigoli durante per esempio un intervento appunto di prima necessità quindi per me questo è un articolo che non deve mancare nella lista il cerca fase e qui nella versione più evoluta che rappresentano un uso combinato anche di un calceviti che ci permette di rilevare la presenza di potenziale su un morsetto su una parte metallica che si raggiunge con la punta e toccando l'altra estremità l'utilizzo è immediato e intuitivo non c'è bisogno di spiegazione verso chi è portato a utilizzarlo perché in questo modo l'elettricista dall'altra parte potrà sapere se un relè per esempio ha tensione è alimentato oppure un contatto è rimasto incollato o si apre o si chiude o c'è un problema per esempio sul portalampada del corpo illuminante pilotato da un relè oppure su una scheda di potenza di un elettrodomestico e quindi col cerca fase sotto la guida di un elettricista si può già avanzare diciamo la prima diagnosi del problema e l'uso dicevo combinato un calcevite anche se è improprio dal punto di vista tecnico ci permette per esempio di mollare qualche morsetto di un relè di una schedina e non mollare morsetti più grandi infatti nella lista non ho messo un set di calceviti proprio per limitare l'azione dello stesso e quel po che possiamo fare e col calceviti lo faremo col cerca fase proprio perché i morsetti più grossi quelli di potenza dove c'è più rischio dovranno essere diciamo ispezionati dall'elettricista tuttavia non sempre è facile capire se c'è un problema legato alla tensione con un cerca fase a maggior ragione per esempio se questa va rilevata sotto forma di differenza di potenziale tra due morsetti ipotetico di fase ipotetico di neutro almeno per i comuni mortali oppure sul secondario di un alimentatore quindi un'energia ridotta rispetto a quella di rete per esempio la 12 volt soprattutto in continua non è possibile attraverso un cerca fase capire appunto se c'è energia ed ecco che esiste uno strumento che può essere tenuto in casa nella versione più economica possibile che ci risolve più di un problema anche quello legato all'energia ecco il multimetro uno strumento che già nella sua versione più economica qui siamo nell'ordine delle 20 25 euro credo ci permette di misurare delle grandezze elettriche qui diciamo nella versione proprio minimal possiamo misurare tensioni e alternate e continue con una scala e poi anche resistenze quindi continuità e poi delle correnti fino a una certa portata comunque quindi per esempio possiamo fare una prima diagnosi su un alimentatore per esempio di una centrale di allarme dove non c'è bastato col cerca fase capire se effettivamente questo è correttamente alimentato quindi per esempio leggendo tensioni alternate sulla scala adeguata possiamo capire se effettivamente l'alimentazione arriva correttamente dalla rete elettrica oppure controllare se in uscita abbiamo i 12 volt dichiarati o più sull'alimentatore in continua se ancora il problema non si è risolto controllare la continuità del fusibile impostando semplicemente il multimetro appunto in continuità e toccando con i puntali gli estremi del fusibile in questo caso se dopo aver verificato la tensione in ingresso l'integrità del fusibile non c'è tensione in uscita vuol dire che l'alimentatore sarà da sostituire e quindi con questa prima diagnosi l'installatore verrà a casa vostra prima possibile con un alimentatore nuovo in borsa un caso classico di utilizzo del multimetro forse il più domestico che esista e testare la batteria per esempio degli orologi per cui una batteria da 1,5 volt impostando la scala in continua e su quella più bassa qui è 2,5 di fondo a scala ci permetterà con un multimetro economicissimo di capire se comunque sulla pila c'è energia comunque operazione che possiamo fare anche senza guanti perché siamo qui nell'ordine del qualche volt in continua oppure l'orologio è da sostituire passiamo adesso al nastro isolante che io reputo in tutte le forme colori e salse molto utile in un primo soccorso anche se poi nell'installazione definitiva quasi mai si deve vedere utile nel contenimento nel riconoscimento di fili o raggruppamento cavi anche durante l'installazione grazie appunto a forme e colori può essere utile per isolare temporaneamente qualche collegamento qualche giunzione qualche falla sull'impianto dove per esempio manca l'isolante qualcosa che ci provocava dispersione anche se adesso appunto le giunzioni e le derivazioni vengono effettuate con crimpatura con morsetti mammut o four box però in casa suggerisco sempre di tenerlo appunto per soluzioni di tamponatura temporanea e infine gli accessori da taglio li metto in unica categoria perché possiamo dal punto di vista domestico anche se ho dedicato credo un video al taglio e alla spellatura affrontare situazioni appunto elementari di prima necessità sempre sotto la guida dell'installatore e potrebbe essere per esempio in una presa surriscaldata che si è incollata e provoca un corto o una dispersione sull'impianto facendoci rimanere al buio e con un paio di forbici o con una tronchese da elettricista anche la più economica si può appunto tagliare ai messi interrompe una linea ma si riesce a riarmare il resto dell'impianto che è connesso il cosiddetto magneto termico differenziale tutti articoli che si trovano facilmente dalle commerce alla grande distribuzione al ferraventa sotto casa siamo nell'ordine di spesa totale credo tra 30 e 35 euro forse impatta più il multimetro con i suoi 18 23 euro credo che con il resto che ha diciamo un ordine di spesa dell'1 2 3 euro forse il cerca fase più evoluto può essere di 6 8 euro circa ma c'è sempre quello tradizionale e poi le forbici che partono anche da 4 euro ma più spendiamo più qualità abbiamo comunque attrezzi indicati per un uso saltuario e molto sporadico nessuno ci vieta di tenere nella borsa del kit d'emergenza di prima necessità delle fascette dei sistemi per il cablaggio ma lì andiamo verso l'installazione piuttosto che sulla situazione diciamo domestica come ho detto all'inizio del video questo non significa che siamo portati a fare tutto quello che vogliamo sul nostro impianto elettrico perché nessuno ci rimprovera o perché sottovalutiamo il rischio di invalidare un impianto oltre il fatto che ci possiamo fare seriamente del male perché la corrente ricorda ancora che è pericolosa anche se non si vede fatemi sapere cosa ne pensate attraverso lo spazio sotto il video dedicato ai commenti e raccontatemi la vostra esperienza se vi siete trovati in una situazione di panico dove vi è capitato io ne sono sicuro di collaborare telefonicamente oppure a distanza con un professionista e avanzare comunque la risoluzione dell'enigma da sembritori se è tutto io vi ringrazio e alla prossima